Grazie, prima di iniziare il video vi dico di iscrivervi al canale del mio amico Jacopo Plays che anche lui fa gameplay, che anche lui fa gameplay, e di iscrivervi anche al mio canale e di attivare la campanellina per non perdere nessun video, ah e di lasciare un mi piace, e niente detto questo buona visione. Ah, che buono, ogni nuova casa che mi sono comprato, allora che cosa ne pensi? Sì, il mio grande tigre è la Tasmania, la prenderò come un sì, cavolo sei cresciuta, l'ultima volta che ti ho visto eri junior, cioè che significa che eri piccola, un cucciolo, e adesso sei pre-adolescente, cavolo ma tu pulsi, aspetta prima faccio io la doccia. Allora, ok, perfetto, scusami ma se... e poi sei l'unica dell'altra specie ad essere ancora viva. Ok, tocca a te. Ok, ragazzi, intanto che la mia tigre sta appena fatto la doccia, lei è... io sono baby jason. No, non sono jasonino, sono baby jason. Ed è un'altra cosa, jasonino è un... è un'altra cosa, ok? Io sono solo baby jason. Ok, jason è un bambino. E oggi... ho comprato una nuova casa... con i miei sogni. Allora, ora usciamo che ho appena sistemato tutto e voglio vedere un nuovo quartiere. Wow, mica male! Allora, l'idea è che ci abitueremo a che... ti credo la giornale. A proposito, io non ti ho ancora dato il nome. Allora, come ti potrei chiamare? Sì, sì... Oh, 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 580 euro! Oh, euro nella mia banca. Va bene, allora. Dobbiamo... bene. Dobbiamo vedere se c'è la falla. Ah, già, dobbiamo fare ancora un po' di corsa, credo. Cazzo! Non so, comunque tra i giorni scadrà... L'evento Sink è sempre più forte. Oh, che peccato. Beh, dunque... Io sono Baby Jason. Oh, salve, signor Koala! È proprio lei, quello del cartello? Ah, ha detto che scadrà il suo... Il suo evento... Il suo evento. Dunque, ci vediamo dopo, signor Koala. Ora devo andare a fare una corsetta, credo. E intanto vado. Vedi a che devo stare attento a non cadere nel fiume. L'abbiamo seminato. È una ladra! È una ladra! Oh, cavolo. Oh, Robby! Robby? 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 Sei tu? Oh, cavolo, ragazzi! Ho incontrato Robby! Oh, cavolo, non ci posso credere! È Robby? Oh, mio Dio! Voglio essere tuo amico! Ragazzi, ho incontrato Robby! Oh, cavolo! Ragazzi, ho incontrato proprio Robby! 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 Robby? Dov'è andata Robby? 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 E' finito Robby? 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 No, cavolo, non la trovo! Un attimo fa l'avevo vista! Robby! Robby! E poi voi l'avete visto! Era proprio Robby! Sì! È proprio Robby! Oh, forse era una falsa! Oh, forse era una falsa! Oh, forse era una falsa! Grazie.